L'Abruzzo brucia e mentre si è parlato tanto della situazione dei Vigili del Fuoco, della scarsità di mezzi e risorse, della fusione tra carabinieri e forestale tanto contestata e tanto altro, sembra non avere fine un incubo nel quale anche tanti volontari a mani nude nei boschi tolgono sterpaie e aiutano in attesa di qualcosa di più. La giornata di ieri sul fronte degli incendi è stata infernale. A Sulmona ormai il morrone brucia da giorni e ieri con le fiamme ancora alte a causa del vento e con le frazioni ormai lambite, con i sindaci disperati a chiedere acqua e autobotti, succede che un volontario rimane gravemente ferito alla testa colpito da un sasso, ora è nel rieparto di rianimazione dell'Aquila. Incendi anche a Raiano e Prezza e anche a Tagliacozzo, ettari distrutti e probabilmente il dolo come in tutti gli altri casi. Le fiamme hanno distrutto la montagna e anche se oggi tutto appare sotto controllo con qualche focolaio ancora attivo, la giornata di ieri è stata a dir poco drammatica. Il fuoco è partito da diversi punti della periferia della città ed è arrivato a toccare quasi le abitazioni, quattro famiglie infatti per sicurezza sono state evacuate. Nucleo operativo della protezione civile di Tagliacozzo e carabinieri della locale stazione coordinati dal capitano Comandè sul posto immediatamente. Tutto è partito intorno alle 15. A mani nude a prendere sterpai, a cercare di non far avvicinare le fiamme alle case. Il fuoco è partito vicino a Via Cupa, solo una settimana fa l'incendio di Val de Verri è arrivato anche a Sante Marie, il rogo è arrivato a toccare anche il ciglio della strada tiburtina. E in tutto questo all'Aquila dopo il vasto incendio che ha distrutto settimane fa la montagna di Aragno, nel comune di Tornimparte, precisamente a Castiglione ieri sera, sono arrivate le fiamme. Subito attive tre squadre di vigili del fuoco da terra ma la zona è molto complicata in quanto è difficile operare sia per le condizioni della montagna che per la scarsità di segnale dei telefoni cellulari che rende ancora più difficile il tutto. Anche qui il dolo sembra l'ipotesi più probabile. Ma non è finita, sul versante Reatino, sul Montegiano, le fiamme hanno raggiunto la vegetazione e le sterpaglie ai margini della strada, all'altezza del santuario della Madonna delle Grotte ad Antrodoco. Sempre in provincia di Rieti un vasto incendio ha interessato l'area di Poggio Bustone. L'incendio sul Monte Prato, uno dei tanti fronti che nelle ultime ore ha interessato la parte alta della provincia di Rieti, ha raggiunto anche il territorio comunale di Amatrice, mettendo a rischio le frazioni di Aleggi e Forcelli al confine con il comune di Città Reale.